Musica Musica Siete qui per vedere Revolución Sonsuiti, il nuovo spettacolo. Esattamente. Che vi aspettate? Che sia bello come gli altri due, che riusciamo a capire. Si può capire anche quanto si è capace per l'orecchio della lingua straniera, si valuta quanto si è in grado di capire. E com'è il vostro livello? Come l'avete valutato con questi spettacoli? Medio o buono. Quindi ti ha rassicurato? Sì, abbastanza. Perché prima uno pensa che non può capire niente o non è a livello, invece capisce molto. Magari all'inizio sente parlare veloce, non è abituato così e poi invece si riesce a capire di più che venivano anche a parlare con il pubblico, proprio venivano a cercare l'interazione con il pubblico. Mi è piaciuto. Sì, e poi la musica, la musica e il canto. Non era solo recitazione, ma c'era tutta la parte cantata, tutte le danze. Io penso che andare a vedere il teatro in una lingua straniera è un'occasione per noi di apprendere meglio la lingua e per vedere le cose in nostra realtà, il teatro. Quindi è un'occasione per migliorare. Quindi è un'occasione per migliorare. Come è andata l'esperienza quest'anno con France Theatre, il tour? 168 spettacoli in 95-96 città. No, da un punto di vista tecnico è andata bene, è andata bene, sulle luci, sulle luci. Qui è andata? L'accento tecnico. Non. L'accento tecnico è andato bene. Ma io ho invitato anche Fabrizio Tormenato. Il era una grande rivelazione questa stai. È stato anche un grande aiuto soprattutto nel rapicale. Morale, 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 morale. M. Alex, questa sarà la ultima, io voglio ricollere i vostri impressioni. Potremmo potremmo domandare a M. Sarkozy, d'abord. Ecco, io sono molto felice di aver visto questa esperienza, perché mi piace molto la pizza, mi piace molto l'Italia, perché la Bruni, ma carità è fantastica, e riconoscere il suo paese, è stata una grande esperienza. Grazie, M. Sarkozy. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, io vorrei dire che sono molto felice di fare questa giornata, perché abbiamo molto giornata, abbiamo molto giornata in tutta l'Italia, e abbiamo mangiato molto di pate, e io mi piace le pate, perché le pate non sono solo le pate, sono anche delle cose a mangiare. Allora, per il piacere, puoi cliccare sul butone dell'iPhone. Au revoir. Buongiorno, come è stata questa giornata, Révolution 68? Buongiorno, è perfetto, perfetto! Buongiorno, è la fine, è la fine della giornata. Come è stata questa giornata, Révolution 68? C'era super! C'era a dire? C'era a dire che... C'era a dire che... C'è la fine. C'era un po' triste, è la fine qui è la fine qui è oggi. C'è la fine qui è a Vitelvo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti